Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Iniziamo dall'autostrada sulla 1, coda in uscita a Firenze e Scandicci per traffico intenso nelle due direzioni. Sulla Firenze Mare, per traffico, codi a tratti tra Pistoia e Firenze Ovest, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria, coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tutto in direzione di Firenze. In Sipilì, per lavori, 3 km di coda tra Ponte d'Araeste e Montopoli-Valdarno verso Firenze, per interventi di miglioramento della sicurezza, resta coda di 1 km verso Firenze, tra Montelupo e Ginestra, e rallentamenti in carreggiato opposto tra La Strassigna e Ginestra. Traffico, inoltre, rallentamenti all'altezza di Scandicci, ancora una volta in direzione del capoluogo. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, segnaliamo la chiusura di Lungarno-Diaz per lavori urgenti alla rete del gas. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!